Non è facile torturare la gente. È un lavoro duro. Fisicamente e mentalmente non credo che la gente lo capisca. È per lasciare il segno. Lo sa, ce ne sono altri come me. Lei crede? 40 anni fa la vostra FBI è stata fondata per dare la caccia a John Dillinger. Ora abbiamo estremi atti di violenza tra sconti. Sono conosciuti. Insegniamo le tecniche dell'FBI alla polizia. Hai soldi per pagarla per pochi minuti. Era manettata e legata al letto. Cos'è che la gente non farebbe gli altri? Non c'è niente che non farebbe. Come possiamo aiutare? Dovremmo usare ogni risorsa che abbiamo. Parlare con le persone più intelligenti, scelte da una gamma il più ampia possibile. Sono nati i criminali? O lo sono diventati? Gli psicopatici sono convinti che non ci sia nulla di sbagliato in loro. Sono virtualmente impossibili da studiare, ma voi avete trovato il modo come in una perfetta condizione di laboratorio. Salve, ragazze. Ecco perché è così stimolante e potenzialmente di enorme interesse. Questi uomini hanno una motivazione. Come vedono il sesso. E le donne? Il nostro lavoro non è commiserare queste persone. Il nostro lavoro è giustiziarle. Non può piacerci tutto ciò che facciamo. Noi parliamo con dei serial killer. Serial killer. La vostra terminologia. Cerco di metterti in guardia. Il tuo atteggiamento ti si rivolterà contro. Troppo giovane per rovinare le vite altrui. Cosa fai? Ha sviluppato un comportamento che non era il suo. Se continua così, non posso fare niente. Non c'è una procedura su come parlare con queste persone. Se non funzionerà, dovremo parlare con più soggetti. Vuoi tartufi? Di più! Sporcati le mani di terra. Come possiamo anticipare dei pazzi se non sappiamo come ragionano i pazzi? Vi siete mai chiesti, ragazzi, qual è la serie su Netflix più vista al mondo? Netflix non ha mai svelato dati ufficiali sulla propria audience, però High Speed Internet è stata in grado di individuare i migliori performer sulla piattaforma, incrociando i dati di ricerca in centinaia di paesi. E quindi, qual è la serie più amata in tutto il mondo? La risposta è... Sherlock, con il tanto amato Benedict Cumberbatch. Friends si piazza al secondo posto. Invece, le serie originali Netflix, Narcos e House of Cards sono al terzo e quarto posto. New Girl chiude la top 5 mondiale. Qual è invece la serie più vista su Netflix? Provate a indovinare nei commenti sotto. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare il campanello delle notifiche per non perdervi nuovi video. E ci potete seguire anche su Facebook e Instagram. Nella descrizione dei video trovate tutti i link. Ciao da Valeria.